Centomila, potrebbe accadere un bel giorno di svegliarti in casa da solo, questo potrebbe risultare normale a seconda della tua routine quotidiana, tuttavia stavolta sono diverso dal normale. Nonostante il tutto sembra identico al solito, noterai che intorno a te c'è fin troppo silenzio, uscendo di casa potrai consapevole l'assenza di cose come uccelli, insetti e persone, continuando la passeggiata non incontrerai un singolo storico vivente, il mondo intero si mostrerà in attimo a vuoto a detenzione, attualmente ci sono oltre centomila casi di persone scompassi negli statunitari, molti sono casi di omicidio o rapimento, ma per altri il motivo della scomparsa rimane un mistero e nessuna delle persone scomparse non è mai stata trovata.